Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi continuiamo gli excursus sugli exchanges, quindi in particolare vi parlo di una piattaforma che mi sta conquistando veramente tanto. Addirittura sto valutando di utilizzarla in sostituzione in pianta stabile del suo principale concorrente che è BitMEX. Infatti si tratta di una piattaforma di trading di strumenti derivati su Bitcoin e non solo e l'exchange in questione si chiama Bybit. Gli strumenti derivati a disposizione sono i Perpetual, quindi quei futures senza scadenza, un po' come quelli che sono su BitMEX, su Bitcoin praticamente, con leva fino a 100% su Bitcoin ed Ether e leva fino a 25% su EOS e Ripple che sono le altre due criptomonete a disposizione. Il bello di questa piattaforma, la cosa che mi ha conquistato di più, è il fatto di collateralizzare questi quattro contratti con le quattro criptomonete sottostanti. Quindi si può depositare nell'exchange non soltanto Bitcoin come avviene sul suo principale concorrente ma anche per l'appunto Ether, EOS e Ripple. Quindi questa cosa è particolarmente carina secondo me per coloro che holdano queste monete e nel frattempo però vogliono fare qualche giochetto speculativo per guadagnare sui movimenti di breve cosa che penso molti siano interessati a fare. La leva, ve l'ho detta, è disponibile molto alta, attenzione a non farvi male, usatela con testa. È possibile inserire ordini molto avanzati che vedremo poi nei video e ho intenzione di fare due video su questo exchange. Uno, quello di oggi, dove ve lo presento, vi faccio una panoramica e vi dico le sue particolarità. Un secondo video invece più tecnico dove andiamo a smanettarci un po', andiamo a vedere le tipologie di ordine, come inserirli per ottimizzare appunto il nostro trading, la nostra operatività e il nostro profitto. Prima di iniziare vi ricordo che innanzitutto c'è un programma di affiliazione sull'exchange che se vi registrate con il mio referral link che vi lascio nella prima riga della descrizione mi fate un grosso piacere per voi a costo zero perché mi girate una parte delle fees che pagate nell'operare appunto sulla piattaforma stessa. In secondo luogo, vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti e i miei video cortesemente lasciatemi un bel like che così io posso constatarlo ed essere sempre incentivato a continuare a produrre. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina così rimanete sempre sul pezzo e vi arrivano sempre le notifiche dei miei nuovi video. Basta parole, andiamo a vedere Bybit. Seguitemi! L'exchange si presenta così andando su Bybit.com ci si trova in questa pagina iniziale che ci mostra un po' in breve, in sintesi, le caratteristiche dell'exchange stesso quindi gli strumenti sui quali si può operare che sono questi quattro perpetual su Bitcoin, Ethereum, EOS e Ripple come vi ho anticipato che cos'è un perpetual, tra parentesi giusto per sapere di cosa stiamo parlando è un surrogato di un future che a differenza dello stesso non ha scadenza quindi sapete che i future scadono magari dopo sei mesi, tre mesi, un anno insomma dipende poi appunto dalla sua scadenza mentre il perpetual si autorinnova in continuazione ogni otto ore grazie a un meccanismo che si chiama funding un artificio che praticamente prevede il trasferimento di fondi in base naturalmente all'entità delle posizioni aperte in piccolissima percentuale dai long agli short o viceversa a cosa serve questa operazione qui? serve per tenere legato il prezzo del contratto, del future al prezzo del sottostante quindi di Bitcoin, Ethereum, EOS o Ripple per evitare che appunto i due prezzi divergano quindi questo fa emergere anche un altro privilegio dei perpetual scusate che non a caso sono gli strumenti più liquidi nel mercato delle criptovalute e assolutamente migliori a mio parere che è il tenerlo ancorato appunto al prezzo del sottostante come vi dicevo appunto è un exchange di strumenti derivati che accetta come collaterale quindi si deposita qua sopra su Bybit Bitcoin, Ethereum, EOS o Ripple per operare sui rispettivi perpetual per l'appunto non si fanno compravendite ovviamente in dollari ma si comprano, si vendono questi contratti derivati la prima cosa che salta all'occhio è il welcome bonus che c'è anche qui nello slider eccolo qua di 10 dollari praticamente quando voi create un account vi viene immediatamente accreditato dopo essere entrati anche sul gruppo di Telegram che ci vuole a dire tanto un minuto per fare tutta la procedura ci si viene accreditati 10 dollari che è appunto il welcome bonus è un bonus utilizzabile solo per fare trading attenzione non è che si può ritirare subito ovviamente ma eventuali profitti che vengono accumulati grazie a quel bonus poi possono essere invece tranquillamente ritirati non è l'unico welcome bonus in realtà ve lo volevo far vedere mi pare che sia qui eccolo qua perché c'è anche il deposit bonus praticamente nel momento in cui voi depositate almeno 0,2 bitcoin oppure 6 ethereum vi vengono accreditati altri 50 dollari in bitcoin o ethereum a seconda di cosa depositate anche in questo caso ovviamente non ritirabili subito ma investibili diciamo così e poi i profitti possono essere eventualmente ritirati in seguito quindi questa è una maniera carina diciamo così per permettere a chi vuole sperimentare con questo exchange ma senza utilizzare i propri fondi un altro modo per operare invece senza rischio è utilizzare la testnet andando su testnet.bybit.com vedete che abbiamo un portale identico speculare al precedente che però appunto opera su testnet su questo portale è possibile depositare i bitcoin di test che vi ricordo si possono ottenere gratuitamente dai cosiddetti faucet e pertanto appunto fare trading utilizzando proprio quelli e senza rischiare nulla il matching engine dovrebbe essere un altro suo punto di forza ovvero il fatto che non dovrebbe incorrere in i cosiddetti system overload quelli che tanto ci fanno smadonnare su bitmex io ho avuto modo di provarlo in questi giorni ed effettivamente è sempre stato molto molto fluido lo ammetto vi faccio vedere un po' la piattaforma ecco prima in realtà di farvi vedere la piattaforma vi parlo della creazione dell'account che è immediata non c'è KYC non c'è verifica di nessun tipo ma semplicemente mail e password siete a posto potete già depositare e ritirare le vostre crypto l'exchange si presenta così in maniera molto molto diretta pulita e immediata abbiamo il grafico in primo piano ovviamente tutte le sezioni poi si possono ingrandire, ridurre spostare, ridimensionare per personalizzare la propria dashboard e qua invece abbiamo l'order book i trade recenti un sommario delle proprie posizioni attive, conditional che sono praticamente gli stop order in coda field che sono gli ordini eseguiti e order history ecco una piccola parentesi volevo fare un altro video su questo exchange in cui mi dedicherò più alla parte tecnica questa vuole essere una presentazione per evitare di fare un video di 40 minuti che poi mi odiate a guardare e quindi oggi appunto vi presento l'exchange e poi in un secondo momento dato che io stesso ho intenzione come vi dicevo di utilizzarlo di iniziare ad utilizzarlo vi presenterò invece la parte prettamente tecnica quindi come andare a utilizzare al meglio gli ordini a disposizione che tipologie ci sono e tutti insomma i tips and tricks per utilizzare l'exchange al meglio qua sotto invece abbiamo la asset overview quindi tutte le coin che abbiamo depositato come vi dicevo è possibile depositare bitcoin, ethereum, eos e ripple e operare sui quattro contratti a disposizione con questi collaterali che è un'ottima cosa per chi ad esempio holda queste monete e nel frattempo vuole giocare un po' speculativamente con qualcuna di esse con il capitale dell'holding anziché utilizzare appunto un capitale fiat oppure delle tanto odiate in questo periodo stable coins è una cosa che io faccio molto personalmente e in particolare su ethereum avevo proprio intenzione di iniziare ad impegnare qualche ether in più anche in maniera speculativa e così mi viene anche più voglia di holdarlo ether da un certo punto perché anziché doverlo vendere quando magari scende io utilizzo quello che holdo ne prendo una piccola parte e apro delle posizioni short magari con un po' di leva per fare da hedging della mia posizione in hold approfondiremo come vi dicevo in un secondo video più tecnico qua abbiamo il lato ordini invece dove possiamo appunto inserire il nostro ordine con leva vedete fino a 100 per quindi è su bitcoin ed ethereum in realtà perché è su eos fino a 25 e su ripple fino a 25 sempre essendo più volatili chiaramente ci sta e qua sotto abbiamo i dettagli del contratto quindi anche qua abbiamo alcune voci tecniche che vi presenterò meglio magari nel prossimo video la prossima volta per non perderci troppo e un sommario della variazione di prezzo nell'ultima ora e del una piccola dashboard appunto con i prezzi attuali delle quattro cryptocurrencies a disposizione apro anche una piccola parentesi sui volumi che sono una cosa assolutamente non in secondo piano come vedete sono di tutto rispetto nonostante l'exchange sia relativamente nuovo parliamo di 20.000 bitcoin in 24 ore qua lo vedete in dollari quindi si è sull'ordine di grandezza delle centinaia di milioni di dollari soltanto per bitcoin su ethereum si abbassano un po' chiaramente essendo comunque uno strumento meno movimentato andiamo sul giornaliero tuttavia neanche tanto siamo sempre sull'ordine di grandezza dei 100 milioni di dollari al giorno per concludere questa breve presentazione vi faccio vedere anche le fees che sicuramente vi interessano allora come vedete qua abbiamo un my asset scusate molto chiaro dove si può vedere il proprio bilancio ecco tra l'altro una cosa secondo me fatta meglio di bitmex è anche il report dei profitti di ogni trade che poi vedremo meglio anche questo la prossima volta però è più chiaro molti mi dicevano ma io non riesco a capire bene su bitmex come si legge quanto ho guadagnato davvero quanto è realizzato o non realizzato qua è molto molto più chiaro dunque qui abbiamo i nostri 4 addresses come vi dicevo il cui deposito è totalmente gratuito non c'è nessuna fee di deposito e il withdrawal anche è discretamente economico perché vedete che su bitcoin la fee è solo di 0.0005 che praticamente è la network fee forse un pelinino in più però è veramente bassa come fee se sapete i concorrenti quanto applicano ecco penso che sia automatica la cosa qua history è sempre uno storico come vi dicevo fatto molto bene ma lo vedremo meglio la prossima volta volevo farvi vedere ecco anche le fees di trading come vedete le fees sono fisse e abbiamo un rebate per il market maker che viene rimborsato quindi dello 0,025% della posizione e la taker fee quindi per gli ordini a mercato è sempre invece dello 0,075% il funding qua cambia come vi dicevo ogni 8 ore e se ha un meno davanti significa che si riceve la funding fee e se c'è il più davanti invece significa che viene pagata quindi può esserci un rebate piuttosto che una fee anche in questo caso esattamente come sull'exchange concorrente c'è ultima cosa un programma di affiliazione che prevede il guadagno ovviamente da parte di chi condividi il referral link di una piccola percentuale delle fees pagate e nulla di che se volete utilizzare il mio mi fate un grosso piacere e vi ringrazio ovviamente a voi non costa nulla ve lo lascio nella prima riga della descrizione detto questo spero di aver suscitato il vostro interesse perché il mio lo ha assolutamente suscitato mi prenderò qualche giorno adesso per smanettarci ancora un po' e poi vi mostrerò la seconda parte un po' più tecnica dove andiamo a vedere come piazzare gli ordini e qualcosa appunto di più dettagliato sull'exchange e sul trading stesso spero che vi sia interessato e ditemi cosa ne pensate e alla prossima